Secondo voi abbiamo sufficiente ragione di affermare che gli editori della società Toro di Guardia sono falsi, ingannevoli, finti e doppi di lingua? Secondo voi abbiamo motivo, abbiamo prove per dimostrare che i testimoni di Geova sono addestrati, istruiti attraverso un esempio che ricevono, ad essere falsi, furbi nel celare al pubblico ciò in cui credono per davvero, fingendo di essere tutt'altro. Cioè, abbiamo indizi o prove per riuscire a capire come mai solitamente il testimone di Geova Medio, non tutti, ma buona parte di loro, tendono a sviluppare una doppia vita, una vita pubblica, una facciata pubblica e quella privata. Abbiamo le prove in tal senso? Vediamo. Per esempio, per quanto riguarda i contenuti che troviamo su gv.org, puntualmente, quindi il canale ufficiale che si occupa di istruire e formare l'aderente all'Associazione dei Testimoni di Geova alla voce «Se studio la Bibbia con i testimoni di Geova, devo diventare anch'io testimone?» Come rispondono a questa domanda? No, non si è affatto obbligato. Migliori di persone studiano la Bibbia con noi senza diventare testimoni di Geova. Lo scopo dei nostri corsi è far conoscere cosa insegna la Bibbia. Sarai tu a decidere cosa fare dopo aver acquisito questa conoscenza. Riconosciamo che la fede è una questione personale. Ecco, questa è la risposta pubblica alla legittima domanda che un individuo si pone qualora chi è addetto alla propaganda gli propone questo corso gratuito dello studio biblico. Già, questa è la risposta, la risposta pubblica. Rassicurante, come sono rassicuranti, come sono bravi a rassicurare il soggetto, l'ingenuo, l'incauto, che non sa in realtà cosa sta andando incontro. Ma vediamo poi la realtà interna. Eh, questa è una rivista, è una rivista, la Torre di Guardia, ottobre 2020, dove a pagina 18 ha la domanda perché dovremmo parlare della dedicazione del battesimo a chi studia con noi? Eh, adesso queste sono invece considerazioni, sono riservate, riservate a chi è già un testimone di Geova. Cosa dice la società d'autore di guardia a chi è già, invece, a chi fa già parte, a chi è già parte attiva dell'organizzazione, non a chi sta fuori? Dobbiamo parlare apertamente della dedicazione del battesimo. Dopotutto il nostro obiettivo, dopo tutto il nostro obiettivo, quando conduciamo uno studio biblico, è aiutare, perché loro aiutano, eh, la persona ad arrivare al battesimo. Dopo pochi mesi, quindi vedete, dopo mesi, non subito, ma dopo mesi dell'inizio di questo studio, e specialmente dopo aver cominciato a frequentare le adunanze, quindi dopo che il soggetto, avendo accettato lo studio e avendo rafforzato, rafforzato, intensificato, diciamo, l'attività, la propria attività con l'associazione, viene a sapere, comincia a ricevere, comincia a ricevere inviti ad andare oltre, ovviamente, perché è questo il loro vero obiettivo, ma in pubblico questo obiettivo non deve farsi, non deve farsi palese. Questo obiettivo non deve essere pubblico, non deve essere, perché ci vogliono mesi, sapete, dopo un po' di mesi, no? Lo fanno prima innamorare, lo fanno innamorare di questa organizzazione, dopo che gli hanno per bene imbottito il cervello di fantascienza, di fuffa, di aria fritta, ovviamente cominciano a martellarlo, no? Con questi inviti, un po' come fanno i mafiosi, sapete, anche i mafiosi invitano il negoziante a pagare il pizzo, ovviamente, no? Questo è il metodo, il metodo di questa organizzazione. Come vedete, c'è la versione pubblica, quella istituzionale, no? Quella che porta i tanti difensori delle libertà di religione, le libertà di culto, a valutare questa organizzazione come un'organizzazione che merita, merita tutta la protezione, merita il contributo politico affinché possa espandersi, perché questi furbacchioni hanno sempre la versione pubblica per permettere a chi sta fuori di giudicarli in maniera più aperta, no? E poi hanno la versione interna. Va bene, ma vediamo qualche altro esempio, dai. Su, vediamo qualche altro esempio. Questo significa che la Bibbia incoraggia l'odio contro i gay? Ecco, parliamo di un'altra forma di discriminazione importante. No, la Bibbia non incoraggia l'odio contro nessuno, né contro i gay, né contro gli etrosessuali. Vedete che furbi, come sono politicamente corretti nel rispondere, nel fornire una risposta pubblica per il pubblico su questa questione scottante, quella della discriminazione sessuale. La Bibbia ci insegna piuttosto a perseguire la pace con tutti a prescindere dal loro stile di vita. Perciò è sbagliato maltrattare gli omosessuali in qualunque modo che si tratti di bullismo o di veri e propri crimini d'odio. Questa è la risposta pubblica. Ma cosa pensano loro in realtà circa la questione? Ecco, un'altra pubblicazione. Questa è di marzo 2021, quindi è stata studiata qualche mese fa, marzo 2021. Questo è un contenuto però riservato a chi è già testimone di Geova, a chi frequenta le adunanze. Non è riservato ai politici, alla Di Marzio o a altri rappresentanti di associazioni che difendono le libertà di culto. No, questo contenuto è riservato a chi sta dentro, non a chi li osserva da fuori. Un altro motivo, dicono, per cui il mondo ci odia è che seguiamo le giuste norme di Dio nella nostra vita. Queste norme sono in netto contrasto con i bassi valori morali del mondo. Ecco, cominciano a creare la distinzione, noi e loro, bassi valori morali. Per esempio, oggi molti approvano apertamente pratiche immorali disgustose, simili a quelli per cui Dio distrusse Sodoma e Gomorra. Secondo voi, di cosa stanno parlando? Dell'omosessualità? Dei gay? Dato che ci atteniamo al punto di vista di Dio riguardo a queste pratiche, molti ci deridono e ci considerano fanatici. Ecco, come si dice dalle mie parti, si buttano in avanti, si lanciano in avanti, in avanti per non cadere indietro. Benissimo, come vedete, è questo il loro reale pensiero circa la questione gay. Non quanto viene fatto passare attraverso questa dichiarazione pubblica, no? Che fa pensare tutt'altro, fa pensare come fosse, come ci fosse un'apertura, un'apertura nei confronti di questa forma di discriminazione. Ora vediamo un altro aspetto, prendiamo un altro esempio, cerchiamo di capire fino in fondo attraverso tre esempi di come questi, appunto, hanno la versione pubblica di ogni questione e la versione privata. E in questo modo riescono a imbrogliare tutti e a farsi difendere anche, a fare in modo che giornalisti e politici e rappresentanti di associazioni di diritti umani prendano le difese di questa organizzazione attraverso questo metodo, la doppia facciata. Doppi di lingua. Doppi di lingua. Falsi. Finti. Il testifico di Geova obbligano i figli a seguire la loro religione, no? Perché ognuno deve decidere personalmente se è come adorare Dio. I testimoni di Geova insegnano ai loro figli i principi della Bibbia, ma sono per i figli, ma sono per poi i figli che una volta cresciuti devono decidere se diventare testimoni o no. Ecco, questa è la versione politicamente corretta, quella per il pubblico. Vediamo invece nel loro privato in realtà come la pensano, come gestiscono la questione, come sono istruiti a gestire queste dinamiche. Avete validi ragioni per obbedire a Geova. Egli vi ama e vi ha dato le sue leggi. Inclusa quella che i figli devono obbedire ai genitori per proteggervi e aiutarvi ad avere una vita felice, ha dato anche suo figlio perché morisse per voi e vi permettesse così di essere salvati dal peccato e dalla morte e di ricevere la vita eterna. Provate gratitudine? Dio osserva dai cieli ed esamina il vostro cuore per vedere se veramente lo amate e apprezzate i suoi provvedimenti. Anche Satana vi osserva e biasima a Dio insinuando che non li ubbidite. Se disubbidite a Dio farete felice Satana e contristate Dio. Geova vi rivolge questo appello. Sii saggio figlio mio e rallegra il mio cuore ubbidendomi affinché io possa rispondere a chi mi biasima. Sì, la domanda è a chi farete piacere? A Satana o a Geova? Ecco, questo poi effettivamente è il ragionamento che viene utilizzato per condizionare i propri figli ad essere obbedienti e a secondare la volontà dell'organizzazione ma soprattutto dei genitori genitori che li vogliono vedere testimoni di Geova. Esiste veramente sono veramente liberi i figli dei testimoni di Geova di decidere cosa fare della propria vita? Beh, la risposta ormai la conoscono tutti ma questi tre esempi e ne possiamo ancora recuperare tantissimi ma verrebbero video lunghissimi e credo che non sia il caso. Credo che tre esempi possono essere sufficienti per comprendere le strategie che questa organizzazione da sempre utilizzano per espandersi e per ricevere sostegno e supporto dal mondo istituzionale e politico che non li conoscono affatto.